ma quello è forte quello è forte perché toglie la ecco uv flash potrebbe essere forte perché sbianca niktos per esempio anche quello potrebbe essere molto buono allora baina yavg mot sei mesi fa tre mesi fa tre mesi fa questo si questo proviamolo sono curioso sono curioso infatti sono contento infatti ma scusa ma come come l'ho importato in italiano mi ha tradotto in automatico la descrizione di del mazzo ah scusate è impazzito google secondo me ragazzi yavg mot può tornare posso dire un po' che godo però nanni perché mi dispiace per i giocatori che hanno perso risorse ma ma ci sta gli abbiamo sempre detto che sarebbe stato io ci provo ragazzi a fare yavg mot potrebbe essere una buona scelta nel meta perché è vero che stai maluccio da maghi se non parti on the play eh però è anche vero che no però è vero non ha molte esplosività senza orchetti però può vincere lo stesso eh lo mettono secondo me con modern horizon secondo me lo metteranno fuori eh si davide assolutamente si è un cambiamento gigante anzi vi mando subito il messaggio anche ai moderatori non so se lo sapevano lo mando subito grazie bacio intanto ragazzi hanno nerfato fragment e e hanno anche nerfato il l'appraiser hanno praticamente bannato le e-line e nerfato discover istorica è tornato un posto felice per mono g quindi è il momento per voi di di farmare come degli animali mono g è forte adesso in istorica è molto forte cazzo devo rifare completamente la tier list il tortello è svenuto sulla sedia in quel momento qua noi abbiamo il turno dopo Yagmot turno dopo Yagmot con doppio lupo vuol dire che abbiamo vinto no? potenzialmente ecco possiamo pescare molto vinto no però beh potrebbe fa ah beh ma lui farà reprieve sicuro no non ce l'ha vai scusami via via terra andiamo a prendere una corda e via non so se si può fare ho bisogno di casno per quello perché casno sicuramente lo ha già fatto mi ricordo che l'aveva budget quindi ti posso dire che casno lo sa fare sicuramente io ho bisogno di una mano devo ricordarmi un paio di robe sulle carte budget mi ricordo che si giocava l'elfo a3 la Binance Cup influenza il meta Dio mio Dio mio non posso neanche contraddirti Cerro dopo la Binance Cup hanno bannato i due mazzi eh facca boia guarda che è pesante come cosa adesso non me la sto tirando però è effettivamente successo questo effettivamente è successo questo mandamela Davide ci do un'occhiata per prendere spunto grazie intanto può essere time oh un pezzo di combo ce l'abbiamo basta una corda abbiamo vinto niente continuiamo fin dove possiamo eh si è dipendente oh è dipendente insieme a Cerro vai terra terra apatra terra alfling vai quindi terra apatra corda vinta possiamo fare anche semplicemente corda non credo che cambi qualcosa sinceramente quella non dovrebbe cambiare niente no diciamo corda da due e abbiamo vinto non è solemnity ah posso fare anche apatra in realtà ah infatti non cambia niente cambia qualcosa farla questa ma no ma non serve niente ah no aspetta però non abbiamo il modo di riguadagnare ah sì no ci abbiamo abbiamo zullaport sì sì no ma abbiamo già vinto ciao ehi call eh vedi Cerro lo sapevo lo sapevo ma ho un po' capito che ha perso mi fa fare tutta la combo mi fa fare tutta la combo che bello che storica è diventato un posto perfetto prima dell'arrivo di modern horizon dio mio ragazzi ma vedete che ho fatto bene a scommettere su questo formato questo formato è bello questo formato è bello l'ho sempre detto ragazzi sempre detto che è il formato migliore di arena ma perché sì bastano delle piccole cose sia giusta il meta cambia tanto è bello 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 certo ehi call certo certo altro che timeless alchim cazzarola ragazzi storica tutto quello di cui avevate bisogno tutto all'agro forte il control forte il mid range forte i combo forti è super bilanciato che vi devo dire di più ma apples sta giocando perché pensa che finisca il timer ragdos guardate che secondo me torna torna ad essere carino anche anche ragdos è considerabile nei mazzi che dobbiamo tornare a provare allora Vabbè, ormai abbiamo finito. Cerro. Non volevo. Me l'ha fatta fare tutta quasi. GG. 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 Vai. Grazie, Davide. Grazie mille, davvero. Grazie, grazie, grazie. C'è anche la partita, tra l'altro, tra mezz'ora. Mamma mia. Quante belle cose. Quante belle cose oggi. Che bello l'annuncio che hanno fatto per i storici. Mamma mia, sono contentissimo. Sono contentissimo. Sono contentissimo. Sono contentissimo e stanchissimo. Settimana scorsa non credeva in me neanche mia madre. Invece, adesso, abbiamo mangiato in faccia a Timeless. In testa a Timeless. Cazzo, comunque è proprio vero. Il formato numero due, per quanto riguarda la eternalità di tutto Magic, se consideriamo la storia, è il più bello. Modern e historic sono più belli di Legacy e Timeless. Niente fa. Non c'è niente da fare. Grande mate. Non c'è niente da fare. Ma lui sta giocando le E-Line ancora? Ma perché è ancora legale oggi? Oggi sarà ancora legale, immagino. Grazie mate. Non è le E-Line, ha solo hardman ligato. È UV, a questo punto. Potrebbe essere UV. Vediamo. Grande. Grande Sherry. Magari, magari. Eh sì, davvero, davvero, davvero. È proprio vero, Davide. Nero. Yagmoth. Vai. Non può fare purga. Può fare una scombata ancora di Discover. Ma scopriamo se è così oppure no. Noi qui andiamo a fare questa roba qua. Possiamo farlo una volta. Vai. A giugno, Modern Horizon. Grazie, Deme. Attenzione. Ma lui è Discover Combo nerfato? Sarebbe tanta roba. È forte, però, fatta il push contro Discover Combo nerfato, in teoria. Quindi, terra. Halfling, vai. Devo attaccare anche con Yagmoth, in realtà. Quattro mana niente. Pazzesco quattro mana niente. Troviamo una corda. Troviamo solo le push. Faremo va su Yagmoth? No. Male. Combat. Dobbiamo giocarcela da midrange. È vero, Carl. Su questo non ci avevo mai riflettuto, effettivamente. È vero? Ci si è un po' inchiodato il combo. Vai. Faremo Takenuma. Che vi devo dire? Sperando che non ci mangi corda. Lui c'ha qualcosa, eh. Lui ha sicuramente qualcosa. Che bravo, Arena, che mi ha tenuto il mana nero. Open. Beh! Ma tipo questa non sembra male, no? Se il piano aggro salta. Ah. Eh, però... Mi sa che facciamo comunque Shelly. Anche per questioni di mana. Che fa? Prende. Se mai lui è di scoprire il combo e ci ammazza adesso. vai. C'è da dire che Yagmoth vale per una removal, però. Quindi bisogna vedere come scomba Se è un combo Grazie Dax Grazie mille Benvenuto tra gli abbonati Eccoci qua Allora Questo l'hai fatto Prima mossa da fare è questa È questa Allora Metto un segnalino qua E spacco lui Benvenuto Benvenuto tra gli abbonati Dax Push qua Vinta Non ha risposte Non ha risposte Gli facciamo sei danni Facciamo Zula port vinta no? Eh si Eh discover nerfata è un'altra roba Fioi Ma quanto mi esce il dialetto tra l'altro È completamente un'altra cosa Discover nerfato Completamente Completamente un'altra cosa Ah abbiamo anche corda E allora abbiamo No aspetta Fai così Fai così Fai così E voilà E voilà È completamente un'altra cosa nerfato Infatti dicevo sempre La discover La discover con Quintorius Andava bene Perché il mana Che costava Quintorius Era sufficientemente buono Che bello Così ragazzi Cazzo che bello Che bello Però è finito il regno dei control Allora eh Perché Mono G torna ad essere importante E col cazzo che si fanno gli stessi numeri con i control Si farà più fatica Dai 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 Sono contento Ma soprattutto sono contento che è successo dopo la Binance Cup È una coincidenza incredibile Eh sì Nanni hai voglia Molte di più di prima Per tanti mazzi E poi gli altri combo sono più solidi adesso Molto di più Cosa prevedo per il prossimo meta Mono G devotion Maghi E UV control Tier 1 del formato Forse G-Sky Mono nero Rakdos Tier 2 Accompagnati dai combo Un po' come Cerbel Cer e Dragonstorm E incantesimi E altro non vi so dire adesso Dovrei pensarci Ci provo Se fare move al su Chattersfang E io pesco terra Facciamo Yagmoth Se non fare move al su Chattersfang E faccio in Keeper Faccio doppio tesoro E faccio Cord of Calling Da 2 Vediamo Vediamo Rapido ti prego Non remove al rapido Va bene Quindi abbiamo Quattro mana Possiamo già fare anche Yagmoth Che toglie Soulscar Mage Ci fa male qua Ma tra l'altro Lo possiamo mangiare Soulscar? No Non posso Mi serve lui Possiamo fare corda da 1 E fatta il push Vai Sì Ha cambiato il meta Veramente Non ti posso rispondere Per davvero Non saprei cosa dirti ora Fa Bolt Poi lui Su Chattersfang Ok Va bene Quindi poi facciamo Yagmoth Il problema è che lui c'ha sempre questo che mi dà fastidio Devo pesca terra Eh sì Orion Sì Hanno nerfato anche Discover È un giorno di festa enorme Quattro mana li abbiamo Ci proviamo Chissà se ci ammazza di Soulscar Mage lui Vai Se non ci uccide adesso Yagmoth Intanto è umano lui Quindi non può prendere danno da Soulscar Mage Sembra vivo questo Yagmoth Cioè deve fare terra Bolt Bolt E questa terra è blu Guarda che ho protezione dagli umani Guarda che ho protezione dagli umani Tonk Quindi vinta Allora Corda da Due No aspetta Uno due tre Vado a No Allora Uno due Corda da due Sì Favre anche da tre in realtà Però da due è più giusto Tappo Yagmoth Tappo lui Tappo lei A patra Trigger Sì Ole Ole Se tu non è monogì L'antimetà È artefatti che lo ferma ragazzi Potrebbe diventare forte anche umani volendo Ma l'antimetà in realtà di monogì è maghi Perché maghi ha una buona win rate Contro Contro monogì devotion Bisogna vedere Bisogna vedere È presto adesso per pensarci Tip Vediamo contro cosa siamo Hard Mulligan Siamo contro Hard Mulligan Vai Non si pronuncia Quindi noi aspettiamo Vai Speriamo non abbia una purga in mano Ok Life gain Nulla di più bello per noi Meno tre Meno tre E vai Facciamo Yagmoth Grazie Cero Ma bene Con lo spoglio di moderno L'elettra che spoglia Il nuovo supporto di energia Pensi possa esserci Un ritorno della meccanica Penso proprio di sì Non so se a livello competitivo Perché non ci credo mai Che arrivi a livello competitivo Il caro vecchio energie Però Sì può essere Può essere Può benissimo essere Che torni anche quella Una meccanica abbandonata a se stessa Ai tempi di Kaladesh Poverina Eh sì Esatto Davide Esatto Beh Oga che è stato Iper bannato subito In realtà Lui ha company però Oga che è stato Iper bannato subito Quindi ha un pelo diverso Ah io ho terra stappata Anche possiamo Vai Io sto open qua Se fa company Facciamo fuori con Yagmot In alto a destra Ceccio In alto a destra C'è l'estensione di Untappet Per vedere Ah no Non c'è l'estensione di Untappet Aspetta Te l'attivo subito Adesso dovresti vederlo In alto a destra Aspetta che guardo Ha preso Ok Vediamo se c'è Sì c'è Ecco company Cosa trova? Eh Uh Beh per noi è top Questa cosa qua Perché facciamo così Allora No aspetta Che fai? Scusate Stavo facendo una stupidata Così E così Poi Così E così Così Ci mancherebbe Ceccio E così Vai Pam pam Due vite per me Nulla per te Open di push Vai Però potrebbe fare un'altra company lui Quanto è forte Chattersfang Ragazzi A me piace un casino Chattersfang Me lo ricordo Che era Era stato molto impattante Nell'altro evento Vai Combat Ci cadrà Anche perché 3-3 Cioè Gli potete mettere sopra 3 segnalini con Con Yag Poi fai Fai token anche lui È bellissimo Bellissimo No Sapete cosa potrebbe Tornare forte Cazzo Angeli Angeli può tornare forte Angeli Torna forte Eh sì Angeli può tornare forte Sì sì Angeli può tornare forte Perché Mono G Perché Angeli È l'unica cosa Che può splashare dentro All'infinito roba Tutto Tutto quello che ferma Mono G Angeli Se ne frega Mette dentro Farewell Mette dentro La stone Può fare quello che vuole Grazie Vassigar Eh sì Angeli può tornare decente Ecco perché ieri Il P ha fatto 6 No beh però ieri Non era ancora attivo Il nerf E poi li ha beccati Leilance ha vinto Anche Eh possiamo Possiamo provarlo Angeli Sapete Possiamo provarlo E come In generale Non tanto Angeli Forse Squirrel Combo proprio Perché alla fine Se i control Si impoveriscono Mono G Non può fare niente Contro Squirrel Sì sì I control sicuramente Si impoveriscono Quindi tutti i combo Squirrel C'è il Oddio Dipende però Perché se tornano Tanto quei combo lì Mono G Non è che contentissimo Di stare in questo meta Eh Questa è bella Questa mano Non lo so ragazzi Vedremo Vedremo Sarà molto interessante Vedere come si adatterà Eh P è fantastico Mi stai dicendo Che hai già una removal No Sì ce l'hai Specifica su creatura Però Invece no È in full control Oppure ha un pesco Beh Non sono scontento Di questa mossa Di hoppo Devo dire No Non sono scontento Per niente In realtà Vai L'importante Non abbia Arcanista Rapido Ecco Il resto Poi Può succedere Di tutto Ma Fragment Io me la trovo Ancora non nerfata Mentre appraiser Sì No Davvero Cerro Bisazzo Ce l'ha davvero Rapido Se ce l'hai rapido Ce l'hai rapido Però vabbè Vuol dire che fa 4 danni Su di me Su di me Mi fa 8 danni Poi non ho più niente Da flashback Ci può andar bene In realtà La rischiamo Eh sì Dobbiamo rischiare Abbiamo la combo pronta Se per caso Non mi fa fuori Neanche un pezzo Abbiamo la combo Come fai a non rischiarla Due removal Le ha usate Dai non avrà mica La terza E la quarta Eh ce l'aveva Invece Però vabbè Se non atterra Pose Riusciamo ancora A spingere Un attimo Ai terra Ancora rapidità E flashback I fiamma Ah Monstrous Rage Stessa cosa Aia Morti male Mica ragazzi Però guardate Che adesso Maghi torna a spingere Con Con l'addio Dei discover combo Vabbè Se guardate Che se Maghi Torna a spingere UV control Festeggia in realtà Quindi non è mica Detto che arrivi Veramente il regno Di mono G Perché avevano Ragione i mod Nel dire che Comunque si bilancia Tantissimo il formato Da solo Praticamente Quindi Quindi bisogna Bisogna aspettare Ragazzi A dire Cosa sarà Questo meta Perché Se ci sono tanti Mono G Maghi Spinge 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 Eh Bisogna aspettare Bisogna aspettare Però sono contentissimo Veramente Sono veramente Veramente Contentissimo Ragazzi Contentissimo Davvero Sono contentissimo Davvero È una notizia enorme E mi fa Veramente Piacere Mi fa Veramente Veramente Piacere È una bomba È una bomba È ragdoss Può essere Che torni Può essere Può essere Può essere Può essere Scanner Push Eldritch Corda E token Dovrebbe Andar bene Come mano Vai Push Eldritch Corda E token Madonna Quindi adesso Abbiamo due Formati Belli Standard E historic Dureus Via cord Per forza E Rakdos Via cord Eldritch Basta che mi faccio Una remove Via push Tra tutto Quello che c'era Un board Cioè Nella mia mano Non avrei mai Tolto push Mai Mai Però Deve avere un piano Per averlo scelto Ok Ha un altro Vampiri Beh Vampiri contro Yagmoth Non è un bel matchup Per lui Giusto Io ho corda Da quattro In mano Più Eldritch Cioè Posso fare Corda Da Uno Posso fare Corda Da due Scusate Beh vediamo Cosa succede Katie's combo Torna Sicuro Mate Katie's combo Torna Sicuro Sicuro Infatti è uno Dei mazzi Su cui punterei Forse la metagame A questo punto Grande Nembo Sì 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 Vi arrivano Vi arrivano Tranquilli Iniziate a spedirli Ma sì Tu fai pure Il vampirozzo Che ci frega Abbiamo vinto Noi Guardate Guardate comunque ragazzi Che vampiri Ah l'altro vampiro Ok Però è un pochino Un fuoco di paglia È come mazzo È un pochino Un fuoco di paglia Vampiri Sì È un fuoco di paglia È un pochino Un fuoco di paglia Possiamo farlo Aspetta Facciamo così Considerando che abbiamo Iagamato in mano Una bella corda Push Niente da fare Corda Non è arrivata Vai Vediamo se mi fa Removal su Iagamato Oppure no Vabbè Se la fa Su Apatra Andiamo a prendere Non penso che lo farà Su Apatra Comunque Penso che lo farà Su Iagamato Invece la fa Su Apatra Ok 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 Se io faccio così Triggera no Esatto Vai Vediamo cosa fa Harvester Va bene Non bloccherò Non bloccherò Si Mi va a togliere Evolution Quindi dobbiamo fare Coro E sperare di pescar bene Beh si va a togliere Sicuramente Evolution Qua lui Però non può attaccare Questo potenzialmente ci da Del mana Buono Ha tolto il coro Sei matto Togli subito Evolution Qua Perché coro Per il mana Infinito Pazzesco Io me l'hai tolto Evolution tutta la vita Fa tre danni a Ok Vai Basta pescare Yagmoth però Sono un po' neanche più Attaccare Che si fa Stonk Inkeeper è buono Inkeeper è buono Un po' neanche più Basta Economo praying Boka Chi Mi Prendiamo l'urrus. Poi. Uccidiamo Sorin. E facciamo un danno anche a lui. Vai. Certo, Bittone. Ve lo metto in chat. 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 Ma di cosa, Bitt? Di cosa? Grazie a te, caro. Sheholdred è un problema. Sheholdred è un problema. Io ho pescati tutti gli Yagmoth. Tutti. Dal primo all'ultimo, ragazzi. Dal primo all'ultimo. Allora... A patra. Vai. Non ti aspettavi l'urrus scambiato così, eh? Proviamo a bleffare. Proviamo a bleffare. Va bene. Va benissimo. Va benissimo. Aspetta. Facciamo così. Via pezzo. Terra. A questo punto posso... Vai. Stiamo giocando da mid. Pritcher, certo. Pritcher, certo. Vai, vai. Siamo buoni. Siamo buoni. Con l'urrus che ci rifà il... Link Keeper. Possiamo stare abbastanza tranquilli, in realtà. Oh! Vinta. Alleluia. 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 Prima ammazziamo Shelly, però. Prima ammazziamo Shelly. Alleluia. Alleluia. Combat. Vai. Perfetto Trigger Non penso che lui possa mai vincere questa partita adesso Ah, a posto Direi a posto Mi sei anche tappato fuori Ciao Deme, grazie mille Tra poco stacco anch'io E... Finita Oppo Ah pure Grazie mille Ma lui ha capito che è morto o no? Non stiamo giocando per sport Che è successo? Morta Arena? No, dai che stavamo vincendo Ok, c'è tornato, è tornato Tornato Posso fare anche un'altra corda da uno ma ho pescato il lupo quindi non serve Boh, vinta Gigi Eh, Yag ragazzi è sempre Yag comunque Poi mi piace tantissimo la lista con ChatterSfang Siamo a premio giusto? Dovremmo essere a premio Dovremmo essere a premio Dovremmo essere a premio Esatto, siamo a premio Allora vado in bagno Probabilmente faremo l'ultima Non so se riesco a concluderlo stasera Allora vado in bagno Grazie a tutti Com'è la mano? La mano è buona Vai La mano è buona Mono G? Oh, testiamo contro Mono G, dai Con la mano che abbiamo in teoria Hanno elfi Eh, però abbiamo Pushp Purtroppo per lui Questa Push Gli sfanga tutti i piani Mi sa Perché il turno dopo Facciamo a Patra già E abbiamo chiuso Non dovrebbe fare in tempo a vincere Ecco A meno che adesso In qualche modo Faccia della roba assurda Non dovrebbe fare in tempo a vincere Elvish Visionary non è una roba assurda Vai Vai Company Che bello che stanno tornando un po' di mazzi belli Sì, sì, l'hai fatto L'hai fatto L'hai fatto Quindi 6-1 L'ho perso solo da un Maghi, no? Finora Ah Addirittura Non mi serve neanche Ma a posto Corda da due E a posto così Questa top deckata di Apatra È stata devastante No, scusa Top deckata di Apatra È stata veramente devastante Olè Olè Vediamo Domi Sapete quale può essere un mazzo Ci ho pensato adesso Che dai Dai nerf Nesce tanto vincitore Dimir Ninja Che già era forte prima Adesso sarà ancora più forte Dimir Ninja Sicuramente Ci ha preso gusto Ecco Diciamo che Non sta male Tony questo Tony che ci countererà La La cosa La La corda Vai Grazie Chaos Grazie Quindi se non mi togli Il Gilded Goose Facciamo Yagmoth Se non mi fa counter Ciao nonno Vaccona Grazie mille per il follo Grazie mille Dai non restare open GG 7-1 ragazzi 7-1 7-1 7-1 Ti do per scontato Che abbiamo vinto Ragazzi Perché tanto Che può fare lui qua Cioè adesso gli togliamo L'unico pezzo che ha Peschiamo Peschiamo Cosa può fare di impattante Adesso lui Ah non peschiamo Ah viene esiliato Non lo sapevo Vabbè pace Abbiamo tempo Non sapevo che venisse esiliato Scusa ma perché viene esiliato Ah perché c'era lui dentro Ok Allora facciamo così Cosa fai nei rimbalzi Yagmoth Ah può avere il flashante Che toglie l'abilità Vediamo Se ce l'ha Se non ha counter adesso Vai Io non ho fretta di vincere Non ho decisamente Fretta di vincere Eh sei un pollo Sei Dice non token Dice non token Va bene Tac Eh lo faccio in risposta Però Oppo No Oppo lo faccio in risposta Yes 7-1 Yagmoth Dopo il nerf Ban Di Leyla in combo E di Scover Yagmoth torna a far parlare di sé Bella 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 Bell'evento Bell'evento Con Yagmoth Dai sono contento Anche giusto in tempo per andare a basket Bella Sono molto molto contento Grande serata per l'historik Lo metterò su youtube Sì Grande grande serata per l'historik Intanto se qualcuno vuole fare un bello screenshot del mazzo Se sta vedendo questo video Direttamente sul tubo nel futuro Ecco a voi la lista ragazzi Ecco a voi Che poi è quella che avevo già caricato C'è già sul tubo Da un bel po' Da un bel po' Questa è la mia lista che avevo fatto con Chattersfang E mi piace Mi piace molto Gioca Chattersfang Gioca Lonely End Tre push E poi la solita combo Ragazzi Grazie mille a tutti per questa splendida live Ancora grazie infiniti per la bellissima Binance Cup di ieri Che ha predetto i due ban Ed è stato incredibile Un abbraccio a tutti Sono contentissimo per il mio formato preferito Buona serata Grazie mille a tutti per il supporto Grazie mille a tutti i nuovi follower e vecchi follower Per nuovi sub e vecchi sub E grazie a tutti voi Che come al solito Non mancate di far sentire il vostro affetto Un grazie anche a chi ha regalato delle sub Un grazie di cuore a tutti Un abbraccio Una buona serata Forza Inter che gioca con il Genova E a domani Domani mattina tra l'altro Quindi Tra non molto Ciao ragazzi Grazie di cuore